La preistoria è come un gigantesco puzzle di cui sia andata smarrita o distrutta la metà dei pezzi. È impossibile ricostruirlo completamente, ma il più grande ostacolo per un'accurata ricostruzione della preistoria non è la mancanza di un così gran numero di pezzi, ma il fatto che il paradigma prevalente rende molto difficile interpretare nel modo giusto quelli in nostro possesso e realizzare il vero modello a cui possono adattarsi. Per esempio, quando Sir Flanders Petrie riferì per la prima volta degli scavi della tomba di Mary Ethnit in Egitto, suppose automaticamente che Mary Ethnit fosse un re. Ricerche successive invece stabilirono che era una donna e a giudicare dalla ricchezza della tomba una regina. Lo stesso errore fu commesso con la gigantesca tomba scoperta a Nagadeh dal professor de Morgan. Anche qui si suppose che fosse il luogo di sepoltura di un re, Hor-Aha della prima dinastia. Ma, scrive l'egittologo Walter Emery, le successive ricerche rivelarono che si trattava del sepolcro di Nith-Hotep, la madre di Hor-Aha. Come nota la storica dell'arte Merlin Stone, questi esempi di come il pregiudizio culturale sia stato fuorviante non sono che un'eccezione, poiché in un secondo tempo furono corretti. La Stone viaggiò in tutto il mondo, vagliando uno a uno scavi, archivi e ritrovamenti, riesaminando le fonti principali e controllando come erano state interpretate. E scoprì che, perlopiù, quando esisteva una testimonianza dell'epoca remota in cui uomini e donne vivevano come pari, questa veniva bellamente ignorata. Nelle pagine seguenti, esaminando la straordinaria civiltà antica scoperta all'inizio del secolo a Creta, vedremo come questo pregiudizio abbia portato a una visione incompleta e fortemente distorta, non solo della nostra evoluzione culturale, ma anche dello sviluppo di una civiltà più elevata. La bomba archeologica. La scoperta dell'antica cultura tecnologicamente progredita e socialmente complessa della Creta minoica, definita così dagli archeologi dal nome del leggendario re Minosse, fu un evento esplosivo. Ricorda l'archeologo Nicolas Platon che nel 1980 aveva condotto scavi nell'isola per oltre 50 anni. Gli archeologi erano sconcertati, non riuscivano a capacitarsi di come fino a quel momento si fosse potuto ignorare l'esistenza di una civiltà tanto sviluppata. Fin da principio, scrive Platon, che era stato per molti anni sovrintendente alle antichità di Creta, vennero fatte scoperte sorprendenti. Nel corso dei lavori vennero portati alla luce grandi palazzi a più piani, ville, poderi colonici, aree urbane popolose e ben organizzate, installazioni portuali, reti di strade che attraversavano l'isola da un capo all'altro, luoghi di culto organizzati e cimiteri pianificati. Nel corso degli scavi furono scoperti quattro tipi di scrittura, geroglifico, protolineare, lineare A e lineare B, che collocavano Creta nel periodo storico o letterario. Si apprese molto sulla struttura sociale e i valori sia dell'iniziale fase minoica che di quella successiva, la micenea. E ciò che è più sorprendente col progredire degli scavi e il ritrovamento di affreschi, sculture, incisioni, opere d'arte, in numero sempre maggiore, apparve evidente che ci si trovava di fronte ai resti di una tradizione artistica unica negli annali della civiltà. La storia della civiltà cretese comincia intorno al 6.000 a.C., quando per la prima volta arrivò sulle spiagge dell'isola una piccola colonia di immigranti, probabilmente provenienti dall'Anatolia. Portavano con sé la dea e una tecnologia agricola che li colloca nel Neolitico. Nei successivi 4.000 anni ci fu un progresso tecnologico lento e costante nella produzione di vasellame, nella tessitura, nella metallurgia, nell'incisione, nell'architettura e in altre arti. Oltre che un'espansione del commercio e una graduale evoluzione del vivace e gioioso stile artistico tipico di Creta. Poi, all'incirca nel 2000 a.C., Creta entrò in quello che gli archeologi chiamano minoico medio o periodo dei primi palazzi. Ci troviamo già nell'età del bronzo avanzata, un periodo in cui nel resto del mondo allora civilizzato la dea veniva sistematicamente rimpiazzata da bellicose divinità maschili. Era ancora venerata, come Atore e Iside in Egitto, Astarte o Ishtar a Babilonia, o come dea del sole di Arinna in Anatolia. Ma ormai era soltanto una divinità secondaria, considerata madre o consorte di divinità maschili più potenti, perché stava sempre più diventando un mondo in cui il potere delle donne era in declino, in cui il dominio maschile e le guerre di conquista e di controffensiva stavano ovunque diventando la regola. Nell'isola di Creta, dove la dea regnava ancora incontrastata, non ci sono tracce di guerra. Qui l'economia prosperava e le arti fiorivano. E anche quando nel XV secolo a.C. l'isola finì sotto il dominio acheo, a questo punto gli archeologi non parlano più di cultura minoica, ma di cultura minoico-micenea, la dea e lo stile di pensiero e di vita che rappresentava sembra fossero ancora saldamente radicati. Sembra che i nuovi dominatori indoeuropei dell'isola, sottoposti all'influenza minoica preesistente, riscontrabile anche nell'entroterra greco che pure stava entrando nel periodo miceneo, abbiano adottato gran parte della cultura e della religione della dea. Per esempio, nelle immagini sul celebre sarcofago del XV secolo a.C. di Aghi a Triada, già più austere e stilizzate ma sempre inconfondibilmente cretesi, è ancora la dea a guidare il proprio carro trainato da un grifone per condurre il morto alla sua nuova vita. Ed è ancora la sacerdotessa della dea, e non i sacerdoti con lunghe vesti femminili a svolgere il luoro principale nei rituali raffigurati negli affreschi di calcare intonacati sulla superficie del sarcofago. I sacerdoti guidano la processione e protendono le mani per toccare l'altare. Come fa notare la storica della cultura Giacchetta Hawks, nel linguaggio piacevolmente antiquato tipico degli studiosi, se ciò è riscontrabile ancora nel XIV secolo, in epoca anteriore, la sua predominanza dovette essere pressoché certa. Così, nel grande palazzo di Knosso, a Creta, è una donna, la dea, una sua grande sacerdotessa, o forse come ritiene la Hawks, la regina di Creta, che sta al centro, mentre due processioni di uomini si avvicinano per renderle omaggio. E dappertutto si trovano figure femminili, molte delle quali con le braccia alzate in un gesto di benedizione, alcune con serpenti e asce doppie, simboli della dea. L'amore per la vita e la natura. Questi gesti di riverente benedizione sembrano catturare l'essenza della cultura minoica, perché, come sostiene Platon, si trattava di una società in cui l'intera vita era permeata da una fede ardente nella dea natura, fonte di ogni creazione e armonia. A Creta, per l'ultima volta nella storia, sembra domini uno spirito di armonia tra uomini e donne, che partecipano alla vita gioiosamente ed a pari. È questo spirito che traspare nella tradizione artistica cretese, una tradizione che, sempre secondo le parole di Platon, è unica nella sua delizia per la bellezza, la grazia e il movimento, e nel suo godimento della vita e del rapporto con la natura. Alcuni studiosi hanno descritto la vita minoica come una perfetta espressione dell'idea di Homo Ludens, di un uomo, tra virgolette, che esprime i nostri più alti impulsi umani tramite un rituale e un divertimento artistico al contempo gioiosi e mitologicamente significativi. Altri hanno cercato di sintetizzare la cultura cretese con parole e frasi del tipo sensibilità, grazia della vita e amore per la bellezza e la natura, e anche se c'è qualcuno che cerca di sminuire o in qualche modo ridefinire il fenomeno cretese per adattarlo ai preconcetti comunemente accettati, che rispetto a noi l'antichità doveva essere più bellicosa e, ebrei esclusi, meno evoluta spiritualmente, la gran maggioranza degli studiosi e sicuramente quelli che nell'isola hanno compiuto vaste ricerche sul campo, sembra incapace di contenere l'ammirazione o addirittura la meraviglia nel descrivere i propri ritrovamenti. Ci troviamo infatti di fronte a una civiltà tecnologicamente ricca e culturalmente avanzata in cui, come scrivono gli archeologi Hans Günther Bichholz e Vassos Karagiorgis, tutti i mezzi artistici e in effetti vita e morte nella loro totalità erano profondamente radicati in una religione onnipervadente e onnipresente. Ma in forte contrasto con le altre grandi civiltà di quel tempo, questa religione, basata sul culto della Dea, rifletteva allo stesso tempo, rafforzava un ordinamento sociale in cui la paura della morte era quasi cancellata dall'onnipresente gioia di vivere. Studiosi posati hanno descritto l'arte minoica come la più ispirata del mondo antico. Archeologi storici dell'arte di tutto il mondo hanno adoperato frasi come la magia di un mondo incantato e il più completo riconoscimento della grazia della vita che il mondo abbia mai conosciuto. E tanto l'arte, i magnifici affreschi di pernici multicolori, i bizzarri grifoni ed eleganti signore, le miniature d'oro di squisita fattura, l'elegante gioielleria, le statuette modellate graziosamente, quanto la società cretese hanno colpito gli studiosi per la loro unicità. Per esempio, una caratteristica degna di nota della società cretese, che la distingue nettamente dalle altre grandi civiltà antiche, è che a Creta sembra ci sia stata una ripartizione della ricchezza piuttosto equa. Il tenore di vita medio, persino dei contadini sembra fosse alto, riferisce Platon. Nessuna delle case finora scoperte suggerisce l'idea di condizioni di vita estremamente misere. Ciò non significa che Creta fosse altrettanto o addirittura più ricca dell'Egitto o di Babilonia, ma se pensiamo al divario economico e sociale tra miseri e potenti, che caratterizzava altre, tra virgolette, grandi civiltà, è importante notare che il modo in cui Creta utilizzava e distribuiva la propria ricchezza era fin da principio indiscutibilmente diverso. Sin dal tempo dei primi insediamenti l'economia dell'isola era prevalentemente agricola. Con il passare del tempo, l'allevamento di bestiame, l'industria e soprattutto il commercio, grazie a una flotta mercantile che navigava e sicuramente stendeva la sua influenza in tutto il Mediterraneo, assunsero un'importanza crescente, contribuendo fortemente alla prosperità economica del paese. E sebbene in principio alla base dell'organizzazione sociale ci fosse il Genos o clan matrilineare, più o meno intorno al 2000 a.C. la società cretese si fece più centralizzata. Nei periodi che Sir Arthur Evans chiama Minoico Medio e Tardo e Platon dei primi e secondi palazzi, in diversi palazzi cretesi è provata l'esistenza di un'amministrazione governativa centralizzata. Ma qui la centralizzazione non si accompagnò a un governo autocratico, né essa comportò l'utilizzo di una tecnologia avanzata solo a beneficio di pochi potenti, o lo sfruttamento e la brutalizzazione delle masse, così impressionante in altre civiltà di quel tempo. Infatti, nonostante a Creta esistesse una classe dirigente opulenta, non vi sono indicazioni, se non nei successivi miti greci di Teseo, del re Minosse e del Minotauro, che fosse sostenuta da una massiccia forza armata. Lo sviluppo della scrittura portò all'istituzione della prima burocrazia, come dimostra il piccolo numero di tavolette in linea Rea. Platon commenta poi che le entrate governative provenienti dalla crescente ricchezza dell'isola fossero saggiamente utilizzate per migliorare le condizioni di vita, che, anche secondo uno standard occidentale, erano straordinariamente moderne. Tutti i centri urbani avevano un perfetto sistema di fognature, impianti sanitari e latrine domestiche. E non c'è dubbio che nella Creta minoica si siano intrapresi lavori pubblici su larga scala, pagati dalle casse reali. Anche se fino ad oggi sono stati scoperti solo pochissimi resti e si sono rivelatori, viadotti, strade pavimentate, posti di guardia, ricoveri lungo le strade, condutture idriche, fontane, serbatoi, eccetera. Ci sono tracce di lavori di irrigazione su larga scala, con canali per trasportare e convogliare l'acqua. Nonostante i frequenti terremoti che distrussero completamente i palazzi antichi e per due volte interruppero lo sviluppo di nuovi insediamenti di palazzi, l'architettura di Palazzo Cretese è l'unica nella storia della civiltà. Questi palazzi sono un superbo insieme di dettagli che esalta la vita e appaga lo sguardo e non i monumenti all'autorità e al potere tipici di Sumer, dell'Egitto, di Roma e di altre antiche società guerriere a domino maschile. Ma ai palazzi cretesi c'erano ampi cortili, facciate maestose, centinaia di stanze disposte in quei labirinti organizzati che nella successiva leggenda greca divennero il simbolo di Creta. In questi edifici labirintici c'erano diversi appartamenti collocati su numerosi piani ad altezze differenti, disposti asimmetricamente intorno a un cortile centrale. C'erano stanze speciali per il culto religioso. I cortigiani e le cortigiane avevano i loro alloggi nel palazzo oppure possedevano delle belle case nelle vicinanze. C'erano anche alloggi per la servitù. Lunghe file di ripostigli con corridoi comunicanti venivano utilizzati per custodire ordinatamente le riserve di cibo e i tesori. Ampie sale con serie di eleganti colonne servivano per le udienze, i ricevimenti, i banchetti e le riunioni di consiglio. I giardini erano una caratteristica essenziale di tutta l'architettura minoica. Altrettanto importante era la progettazione degli edifici con particolare riguardo per l'intimità, la buona illuminazione naturale e i servizi. Ma forse ciò che più contava era l'attenzione per il dettaglio e l'estetica. Venivano impiegati materiali sia locali che importati, tutti lavorati con cura meticolosa. Pilastri e mattonelle di gesso e tufo, facciate composite perfettamente connesse, muri, pozzi di luce e cortili. I tramezzi erano decorati a stucco, frequentemente con dipinti murali e rivestimenti in marmo. Non solo i muri ma spesso anche i soffitti e i pavimenti erano decorati con dipinti, persino nelle ville, nelle case di campagna e nelle semplici abitazioni di villaggio. I soggetti erano tratti soprattutto dalla vegetazione marina e terrestre, dalle cerimonie religiose e dalla vita serena della corte e del popolo. Il culto della natura pervadeva ogni cosa. Una civiltà unica. Anche il grande palazzo di Knosso, famoso per la sua imponente scalinata in pietra, le verande colonnate e la splendida sala di ricevimento, è tipico della cultura minoica. L'importanza estetica e non monumentale della sala del trono e degli appartamenti reali esprimono forse quello che la storica culturale Jacketta House definisce lo spirito femminile dell'architettura cretese. Knosso, che probabilmente contava all'incirca centomila abitanti, era collegata ai porti della costa meridionale con una bella strada lastricata, la prima del suo genere in Europa. Le sue strade, come quelle di altre sedi di palazzi come Mallia e Faistos, erano lastricate con canali di scolo e su di esse si affacciavano case eleganti a due o tre piani, con il tetto piatto e tettoie da usare nelle calde notti estive. La Hoax dice che i quartieri centrali che circondavano i palazzi erano ben progettati per la vita civile e Platon sostiene che la vita privata dell'epoca aveva raggiunto un alto livello di raffinatezza e agio. Le case erano adeguate a tutti gli aspetti pratici della vita e venivano circondate da un ambiente attraente. I minoici e le minoiche erano molto vicine alla natura e la loro architettura era studiata in modo da permettere loro di goderne il più liberamente possibile. Anche l'abbigliamento cretese era studiato per coniugare l'effetto estetico alla praticità lasciando libertà di movimento. L'esercizio fisico e gli sport coinvolgevano uomini e donne ed erano fonte di divertimento. Per quanto riguarda il cibo si coltivava una gran varietà di specie che insieme all'allevamento, alla pesca, all'apicoltura e alla torchiatura dell'uva permettevano una dieta salutare e variata. A Creta spettacolo e religione spesso si intrecciavano e ciò rendeva le attività del tempo libero allo stesso tempo piacevoli e ricche di significato. Musica, canto e danza andavano ad aggiungersi ai piaceri della vita, scrive Platon. C'erano frequenti cerimonie pubbliche, soprattutto religiose, accompagnate da processioni, banchetti e dimostrazioni acrobatiche eseguite in teatri appositamente costruiti o in arene di legno. Tra queste la celebre Taurocatapsia. Insomma, la religione per i gretesi era una faccenda lieta e veniva celebrata in palazzi tempi oppure in santuari all'aperto, sulla cima delle montagne in caverne sacre. La religione era strettamente collegata allo svago. L'importanza maggiore l'avevano i riti di Taurocatapsia. Probabilmente si svolgevano nelle corti centrali dei palazzi. Giovani uomini e donne che lavoravano in squadra cercavano a turno di afferrare alle corna di un toro alla carica e di fare una capriola sulla sua schiena. Forse queste corride sacre sono l'esempio più vivido dell'associazione paritaria di uomini e donne che pare caratterizzasse la società minoica. In esse, giovani di ambo i sessi si esibivano insieme e collaboravano reciprocamente per la propria sopravvivenza. Questi rituali, che combinavano eccitazione, abilità e fervore religioso, sono tipici dello spirito minoico anche per un altro motivo. Erano intesi non solo al piacere o alla salvazione individuale, ma anche a invocare la potenza divina per portare benessere all'intera società. È importante sottolineare ancora una volta che Creta non era una società ideale o un'utopia, ma una società umana, reale, con tutti i suoi problemi e le sue imperfezioni. Era una società sviluppatasi migliaia di anni fa, quando ancora non esisteva niente di simile alla scienza che conosciamo, e i fenomeni naturali venivano spiegati e affrontati con credenze animistiche e riti propiziatori. Inoltre era una società attorniata da un mondo sempre più bellicoso e a dominio maschile. Sappiamo per esempio che i cretesi avevano armi, alcune come le loro daghe, splendidamente decorate, di altissima qualità tecnica. Probabilmente con l'aumento della guerra e della pirateria nel Mediterraneo, anche i cretesi combattevano battaglie in mare, sia per difendere il loro vasto commercio marittimo che per proteggere le loro coste, ma a differenza delle altre grandi civiltà del periodo, l'arte cretese non idealizza la guerra. Come abbiamo già detto, persino la famosa ascia doppia della dea simboleggiava la monifica fecondità della terra. La sua forma ricordava quella della zappa, usata per dissodare il terreno per la semina, ed era una stilizzazione della farfalla, un simbolo di trasformazione e rinascita della dea. E nulla indica che le risorse materiali di creta fossero massicciamente investite, come avviene ogni giorno di più nel nostro mondo moderno in tecnologie di distruzione. Al contrario, risulta evidente che le ricchezze di creta servivano soprattutto a mantenere un modo di vita armonioso e raffinato. Tutta la vita era permeata da una fede ardente nella dea natura, sorgente di tutto il creato e dell'armonia. Ciò spingeva all'amore per la pace, all'orrore per la tirania, al rispetto della legge. L'ambizione personale sembra fosse sconosciuta persino tra le classi dirigenti. Da nessuna parte si trova il nome dell'autore insieme a un'opera d'arte, né l'elenco delle gesta di un sovrano. Ai nostri giorni, quando amore per la pace e orrore per la tirania e rispetto della legge, potrebbero essere indispensabili per la nostra sopravvivenza. Le differenze tra lo spirito di creta e quello dei suoi vicini suscitano un interesse ben più che accademico. Nelle città cretesi, senza fortificazioni militari, nelle ville sguarnite, sulla riva del mare, nella mancanza di un qualsiasi indizio che le varie città-stato dell'isola combattessero tra di loro o intraprendessero guerre di conquista, in netto contrasto con le città fortificate e lo stato di guerra cronico, che altrove erano già la regola, troviamo una forte conferma dal passato, che le nostre speranze di una coesistenza pacifica degli esseri umani non sono, come spesso ci viene raccontato, sogni utopistici. E nelle immagini mitologiche di Creta, la dea come madre dell'universo ed esseri umani, animali, piante, acqua e cielo come sua manifestazione in terra, c'è il riconoscimento della nostra unità con la natura, un altro tema che oggi ritorna come prerequisito per la sopravvivenza ecologica. Ma per quanto riguarda il rapporto tra società e ideologia, il fatto forse più significativo è che l'arte cretese, soprattutto nel periodo minoico più antico, è lo specchio di una società in cui potere non significa dominio, distruzione e oppressione. Per dirla con le parole di Giacchetta Hawks, una delle poche donne che si è occupata di Creta, l'idea di un monarca guerriero che trionfa umiliando e uccidendo il nemico è completamente assente. A Creta, dove sovrani venerati disponevano di ricchezza e potevano vivere in splendidi palazzi, non c'è traccia di queste manifestazioni di orgoglio maschile e di crudeltà incosciente. Una caratteristica singolare della cultura cretese è che non ci sono statue o rilievi che ritraggano chi sedeva sul trono di Cnosso o di qualsiasi altro palazzo. A parte gli affreschi della dea o forse di una regina sacerdotessa al centro di una processione recantedoni, sembra non ci siano ritratti reali di nessun tipo fino in epoca più tarda. Unica eccezione possibile, il rilievo dipinto talvolta identificato come giovane principe che mostra un giovane dai lunghi capelli disarmato, nudo fino alle cintola, incoronato con piume di pavone che cammina tra fiori e farfalle. Altrettanto singolare e significativa è la mancanza nell'arte della Creta minoica di scene grandiose di battaglia o di caccia. L'assenza di queste manifestazioni di una così diffusa a quel tempo e a quello stadio dello sviluppo culturale quasi fossero universali, commenta la Hoax, è uno dei motivi che fanno supporre che sui troni minoici sedessero delle regine. Questa è anche la conclusione dell'antropologa culturale Ryubi Rurlik-Livitt. Scrivendo su Creta da una prospettiva femminista, ella fa notare che sono stati gli archeologi moderni a chiamare il giovane sopra descritto giovane principe o re sacerdote, quando in realtà non è ancora stata rinvenuta alcuna rappresentazione di un re o di una divinità maschile dominante. La studiosa osserva anche che l'assenza di idealizzazioni del potere distruttivo e della violenza maschile nell'arte cretese va di pari passo con il fatto che in questa società la pace sia interna che oltre confine durò per 1500 anni in un'epoca di guerre incessanti tutti intorno. Platon, che a sua volta definisce i minoici come un popolo che amava eccezionalmente la pace, scrive invece che erano dei re a occupare i troni minoici. Tuttavia anche egli è colpito dal modo in cui ogni re governava il suo regno in stretta armonia e coesistenza pacifica con gli altri. Platon rileva gli stretti legami tra governo e religione, una caratteristica tipica della vita politica dell'antichità, ma fa notare che qui, ancora una volta a differenza di altre città-stato del periodo, l'autorità era probabilmente limitata da consigli di alti ufficiali in cui potevano essere rappresentati membri di altre classi sociali. Questi dati sulla civiltà prepatriarcale dell'antica Creta, ancora largamente ignorati, ci forniscono alcuni indizi interessanti che più avanti approfondiremo sulle origini di molti valori della civiltà occidentale. È particolarmente interessante come il nostro concetto moderno di governo che deve rappresentare gli interessi della gente si prefigurasse nella Creta minoica ben prima della cosiddetta nascita della democrazia in epoca greca classica. Inoltre, anche il criterio di potere come responsabilità e non come dominio che sta emergendo al giorno d'oggi sembra riaffiorare da idee precedenti. Infatti le prove indicano che a Creta il potere implicava soprattutto una responsabilità materna e non una imposizione di ubbidienza mediante la forza o con la sua minaccia a un'elita dominio maschile. Si tratta della definizione di potere tipica di un modello mutuale della società in cui le donne e le loro peculiarità non vengono sistematicamente sminuite. Ed è questa la definizione di potere che continuò a prevalere a Creta anche quando il suo sviluppo sociale e tecnologico si fece più complesso, influenzando profondamente l'evoluzione culturale dell'isola. È particolarmente interessante il fatto che anche molto tempo dopo l'ingresso di Creta nell'età del bronzo, la dea, dispensatrice di ogni forma di vita nella natura, viene ancora venerata come suprema incarnazione dei misteri del mondo e allo stesso tempo le donne continuano a mantenere la loro posizione di preeminenza nella società dell'isola. La Rurli Livit scrive che le donne erano i soggetti principali, quelli più frequentemente ritratti nell'arte e nell'artigianato e appaiono soprattutto nella sfera pubblica. È dunque priva di fondamento l'asserzione che la città-stato o ciò che alcuni studiosi moderni definiscono statalismo implichi strutturalmente bellicosità, gerarchia e sottomissione della donna. È significativo che nelle città-stato di Creta, leggendarie per la loro ricchezza, per l'eccellenza di arte e artigianato e per la floridezza del commercio, le nuove tecnologie e con esse una più vasta e complessa scala dell'organizzazione sociale, che comporta una crescente specializzazione, non causano alcun deterioramento della condizione della donna. Al contrario, nella Greta minoica la ridistribuzione dei ruoli che accompagna un cambiamento tecnologico sembra abbia rafforzato e non indebolito la posizione della donna, poiché qui non esisteva un fondamentale mutamento sociale e ideologico. I nuovi ruoli richiesti dai progressi tecnologici non hanno portato a quel tipo di discontinuità storica che riscontriamo altrove. Nelle società della Mesopotamia meridionale, sin dal 3500 a.C. circa, si riscontra una rigida stratificazione sociale e una costante bellicosità e allo stesso tempo un deterioramento della condizione della donna. Nella Creta minoica, anche se esistevano urbanizzazione e stratificazione sociale, la bellicosità era assente e la condizione della donna non peggiorò. Grazie. Grazie.